Stefania Simeoni, che cosa hai creato? Questo dipinto fa parte di una serie in cui sto elaborando e studiando delle rose in particolare. È una serie di dieci quadri in cui cerco di mescolare e fare degli mnesti su due tipi di rose diverse. Sulla sfonda ci sono sempre dei visi di donne nascosti, visti da dietro e il nome di questa donna sarebbe una mescolanza dei due nomi delle rose. E cioè? Cioè la donna prenderebbe il nome di un nome parte assurso preso dal nome delle due rose.